Trentennale del Festival delle Cerase a Monterotondo, sindaco, promosso il festival? Direi a pieni voti, chiaramente promosso dalla comunità, dai cittadini, dalle donne e gli uomini, dai ragazzi e ragazze che hanno partecipato alle proiezioni, hanno fatto parte della giuria popolare e credo anche, oltre che dagli organizzatori, dagli artisti, dalle attrici, gli attori, i registi, gli sceneggiatori, le sceneggiatrici che si sono avvicendati come premiati in questo festival e ai quali rimane il festival nel cuore, perché vedo anche attori e registi che pur non premiati sono comunque venuti oggi a far visita a questo festival, evidentemente è un appuntamento importante. E allora l'augurio del sindaco di Monterotondo, Mauro Alessandri, al Festival delle Cerase proprio oggi. L'augurio è che questa comunità nella serata finale viva con quella intensità e quella partecipazione, questi momenti, questi paio d'ore, quella intensità e partecipazione che li ha accompagnati durante questo anno di proiezioni.